Ciao a tutti, bei uomini e belle donne, sono Strategico Call of Duty ed eccoci qui con una partita su Modern Warfare 3 Ora qui stavo scegliando un attimino una classe proprio prima della partita perché mi ero annoiato di usare l'ACR silenziato che è davvero una bestia, lo so, non so se avete visto il mio ultimo video E quindi ho deciso di usare il G36C, un'arma da Code 4 che ancora non ho usato in questo gioco, cioè l'avevo presa forse un paio di volte quando non c'avevo più munizioni Però non è che l'ho mai usata, quindi questa era la mia prima partita con quell'arma e ho fatto un risultato abbastanza decente, no? Tanto per, così, non è che, ero un ratio di 3 esattamente, quindi non è che sia un gran che però ho fatto tante uccisioni Poi ho preso anche l'AC-130 che non è male, cioè ho molestato con quell'arma E comunque quest'arma secondo me, mi ricorda tipo, boh, un incrocio tra l'UMP e tipo uno SCAR, no? Cioè, come un incrocio, un'arma un po' strana, però mi piace davvero tanto, cioè è potente Soprattutto una volta ci metti silenziatore, a me piace davvero tanto ovviamente, ragazzi voi sapete quanto adoro il silenziatore E in quest'arma non c'avevo nulla, cioè era proprio la prima volta che sto usando starma E l'ho preso un po' nello scala pranzi all'inizio, cioè non sapevo precisamente come usare starma Mi divertivo un po' a capire un po' come funzionava E intanto venivo distrutto da questo sniper, cioè mi ha distrutto mille volte, cioè era una cosa un pochino patetica all'inizio Continuavo a morire E a parte questa partita non... inizialmente non avevo intenzione di metterla su YouTube Perché, ragazzi, cioè di solito quando inizio a provare un'arma non è che piglio un gameplay subito alla prima, no? Cioè, di solito mi devo abituarmi, devo vedere che bonus e che killstreak vanno bene con quell'arma Però ho fatto un risultato niente male, quindi ho deciso di mettere lo stesso E comunque, quest'arma secondo me... non è che sia come la C-130, no? Eh sì, la C-130, sentidemi ragazzi, no? Non è come l'ACR, ovviamente, però è lo stesso abbastanza forte, no? Sapete, in questo gioco se usi sempre la stessa arma come faccio io, che sono un cretino, non vi divertirete tanto Perché non avrete l'opportunità di provare altre armi, che poi alla fine in questo gioco ce ne sono tante da usare, no? Non so se ve ne sei accorti, secondo me ce ne sono davvero tante E comunque... all'inizio, come vedete, non è che stavo facendo tanto bene E avevo intenzione di abbandonare la partita a un certo punto, cioè ero proprio incazzato come una bestia Dicevo, no, questa arma non mi piace per nulla E poi ho preso, mi sembra una quadrupla col Predator E da lì ho detto, ragazzi, cioè, ora ci sta un bel gameplay, no? E comunque, come vedete, ero 3-4 e stavo guardando il risultato Dicevo, ma che cazzo, cioè, ragazzi Va bene, sto andando in giro a corre come... come... un barbone Però, non è che... guardate qui, cioè, ragazzi Questo è proprio uno spawn tipico di Modern Warfare 3 Cioè, proprio... su Nao ho fatto 3 passi e ce l'avevo uno che è Rinao accanto a me Cioè, è una cosa davvero patetica Che... tanta gente si sta già... si sta incazzando, ovviamente Perché non è che ogni volta te ne nasci... ti nasci... nasci sempre accanto a qualcun altro Almeno che non stai... che non stai giocando a demolizione o dominio E comunque, va bene A parte quello, ragazzi Ah... parliamo un po' del... delle classiche sto usando Sto usando, mi sembra... sciacallo Sciacallo con... ah... sciacallo, estrazione rapida E mi sembra... tiratore scelto Che... non è male Ogni volta che sto usando una mitraglietta come questa Secondo me conviene Poi, ora, quest'arma, secondo me, vale la pena usare mappe non così grandi Perché... una volta che stai iniziando a sparare a gente che sono molto lontane da te Diventa davvero difficile, almeno che non sono infortunate, no? Già Perché... si muove, cioè... Ah... balla un pochino quando spari Non è come l'ACR, no? Quindi... Ve la consiglio di usare in mappe... tipo... o piccole O... medie Non mappe grandi, ma è questa Non so perché l'ho usata Però... alla fine basta abituarsi E essere nel... posto giusto Al momento giusto E... comunque... poi Poche altro, ragazzi Novità Novità Volevo dirvi che... Mio babbo, grazie al cielo È andato a prendermi una batteria per il computer vecchio mio Il MacBook bianco E quindi finalmente funziona di nuovo, ragazzi Cioè... pensavo fosse morto definitivamente Definitivamente, ma ovviamente Non muore mai, no? Cioè... che poi alla fine quando... tipo... come se ci avessi... dei pesciolini, no? Quando vuoi che muoio, non muoio mai Cioè... sono indistruttibili Tipo quelli che ho di sopra, già... mi sono rotto le palle di dargli il cibo tutti i giorni E... comunque... pensavo morissero dopo un paio di mesi No, sono ancora vivi È una cosa assurda E qui, comunque... parliamo un attimino della partita Cambio la partita Perché piglio una quadrupla L'elicottero mi fa un'uccisione Tiro fuori la C-130 E molesto, cioè... ora... La C-130 non è tanto forte in questo gioco Non è... non è forte come in Modern Warfare 2 Però allo stesso tempo non è che sia tanto male Poi... alla fine basta saperlo usare Io... io ora non è che sono un dio a usare sta cosa Però ci provo, no? Che... poi alla fine è tutta una questione di abitudini Cioè se voi siete abituati a usare... A qualsiasi altra arm... cioè qualsiasi altra kill streak Alla fine diventerete dei pro E sapete usare qualsiasi kill streak No, basta che lo usare abbastanza Poi qui me la butto in giù subito Quindi un pochino ero depresso Però almeno... Mh... ignorato era salito, no? Perché ora sto provando a... A alzare il mio ratio Però non ce la faccio ragazzi Cioè io... Mi diverto più... A correre in giro Il ratio lo mandavo a puttanea Come l'ho detto Ora tipo... Mi sembra... 1,36... 1,36... Sì, una cosa del genere Non è che... Non sono uno di quelli che va sempre per un ratio Di tipo 2,40, no? Come conosco gente C'ha dei ratio impressionanti, no? Però alla fine... Quando voglio posso sempre riuscire a fare una partita decente Cioè basta che mi impegno, no? Che poi alla fine sto sempre con amici E... Parlare, giocare allo stesso tempo Concentrarsi È abbastanza difficile Quindi se sto cercando di andare per l'obiettivo E... Non ce la faccio mai a tenere un ratio decente, no? Ora forse se... Se giocate anche voi con gli amici Aprirete che... Almeno tutti non sono lì a fare i tryhard Senza tutti a fare i camper È davvero difficile tenere un ratio decente Poi c'ho... Tutti i miei amici sono quelli di scuola Non è che... Loro si divertono a... A fare tipo le clips Cioè non è che vi posso dire Oh, ragazzi Conquistiamo le bandiere Mettiamo le infiltrazioni tattiche E stiamo lì con gli sniper A fare le clip assurde, no? Cioè non posso farlo con loro Perché loro Visto che non guardano un video su YouTube Non sanno una bella sega di... Di cosa vuol dire Fare le quad feed Tutte ste cose, no? Quindi manco lo dico Manco... Cioè tanti non sanno manco C'ho il canale Cioè Alla fine Ogni volta c'ho un gente diversa Perché Perché i miei amici Quelli più stretti O giocano due partite E se ne vanno Oppure Giocano per Ore e ore Quando io non ci sono E poi tipo Mi chiamano e fanno Oh, perché dov'eri? Dov'eri? Stavamo a giocare per ore Mi dovevo chiamare un attimino prima E mi entrava Tanto Quello che c'è da fare in America C'è davvero poco Quindi ora Oggi ha neviato Per la prima volta No Sì Per la seconda volta stanno Ha neviato Stranamente, no? Perché di solito Incomincia a neviare I primi di novembre Quindi ci abbiamo avuto Un extra mese Dove Senza neve Che non era niente male Poi volevo dirvi un attimino Di Di Chicago, no? Cioè che sono andato con la famiglia Però non è che ho avuto tempo per Parlarne Non era niente male Cioè è una città Davvero Bella Mi ricorda tipo tanto New York, no? Cioè Sono più o meno la stessa città New York Da Un attimino più piccola Però Perché poi alla fine Il centro Di Chicago Non è che sia Così tanto grande Cioè Sono Fai finta Cinque strade Cinque parallele E poi alla fine Fuori dal centro Sono tutti Palazzoni giganteschi E Però Mi sono divertito davvero tanto Ho avuto un po' di tempo Con la mia famiglia Cioè Ho perso un po' di tempo Con loro Che poi alla fine Più sto con la Più sto con la mia famiglia Più litighiamo Che poi alla fine io Cioè Io faccio incazzare i miei genitori Solo soffrendo mia sorella No? Cosa che succede 24 ore su 24 E basta Ho sto telefono Accidenti E la terza volta Chiamano Aspettate un attimo Cazzo di chiamare Ogni cinque minuti Ma onna Sta pubblicità Mi ha rotto le palle Comunque A proposito di pubblicità Volevo Un attimino nominare Un mio amico Che purtroppo Ha perso Due mila iscritti Un canale Con due mila iscritti E quindi Il canale è Zifenice Non so se ve lo ricordate L'ho già nominato Una volta Nel passato E comunque Lui è un Grafico Che fa Background Avatar Logo Desktops Fa un botto di roba Quindi vi consiglio Di andare a vedere il suo canale Il link è stato In alto a destra Per tutto il tempo Non so se ci avete già pigiato E comunque Vi consiglio Di andare Andare a iscrivervi A suo canale Così che Almeno Può Ritrovarsi tutti I suoi Belli iscritti Se eravate iscritti A suo canale Non so se ve ne siete accorti Che l'ha perso Quel canale Quindi Se eravate iscritti A suo canale Andatevi a iscrivere Di nuovo E comunque Ora Aspettatevi La rimunta del secolo Ragazzi Come vedete Mancano 54 secondi E stiamo a perdere Di 6 punti 7 ora E comunque Ora Molestrò Tutti ragazzi Vedete Vinceremo di un punto Ora Davvero Non vorrei parlare In questo momento Perché Vi farò vedere Come salvare Una partita All'ultimo secondo Una partita persa Guardate il risultato In questo secondo Ora vi farò vedere Come vincere una partita Pronti? Due Uccisioni così Fashion Ora quello lì L'ultima speranza Ovviamente Rompe il cazzo E io mi diverto A prendere Lo nel culo Come avete visto Ora mi aspettavo E lì Molestavo tutti Però non è successo E comunque Si è vinto Lo stesso ragazzi Quindi L'importante è quello L'importante è vincere No non è Non è avvenuta Di 25 Ogni partita Come vedete Boom Non so cosa è successo Però Si vince la partita All'ultimo secondo Di un punto Quindi si è vinto E come vedete Quello sotto di me Con 24 assist Quindi sicuro Ha avuto una partita Memorabile Cioè Una cosa assurda Però a parte quello Ragazzi Ricordatevi di lasciare Un bel commento E di votare Questo video Lasciare un mi piace Se vi è piaciuto Io ragazzi Vi saluto Buona cc Ciao 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 Ciao